Ben ritrovati dall'ippodromo del Mediterraneo di Siracusa dove si ci appresta a vivere l'ultima giornata di galoppo prima della pausa estiva, sabato 29 giugno si corre dalle ore 20.15 fino alle 23.45 con ben 7 corse tra cui il premio Nastro d'Oro di Sicilia, un bel handicap principale C con cavalli di 3 anni e oltre sui 2100 metri dove ci sono ben 15 soggetti al via e ancora al premio Criterium d'estate una bella condizionata da 22.000 euro per giovanissimi cavalli di 2 anni che invece correranno sui 1400 metri una giornata che prevede anche la seconda tris nazionale abbinata al premio Nastro d'Oro di Sicilia partiamo proprio da questo premio che è uno dei più sentiti qui a Siracusa un premio Nastro d'Oro che è presente in un handicap principale C ben 15 soggetti di 3 anni e oltre sui 2100 metri vediamo chi aprono, aprono con la scala Pesi 61 kg Guapo che si è fatto protagonista insieme con Berenson, Mister Anthony, Giuamento, The Memorial Krali, The Memorial Postiglione quindi risultano ancora loro i più attesi di questa partita deludente alle ultime cuore del drago però non può essere escluso così come torna per trasferta Dizer to Fire che sicuramente vale questi Shugal prepotentemente rientrato adesso è temutissimo Cobal Color si adatta, Auregan Gris alza il tiro ma è in forma e poi Dollar Dice che è un soggetto novità qui a Siracusa viene da Milano, quattro corse, quattro piazze dovrà dimostrare tutta la sua potenzialità gli altri non sono fuori dai giochi ma dovranno impegnarsi sentiamo Antonino Cannella, lui impegnato con Auregan Gris, Playful Dude ancora con Mai Talli poi ancora Erasmolo Piparo che ci prova con Mardamento e due voci fuori campo Mister Macca e ancora il caporale di Scuderia Carmine De Bernardo I cavalli stanno tutti e tre in ordine, sicuramente se c'era un terreno un po' più allentato era meglio ma ci proviamo, vediamo, Auregan Gris secondo me è ben messo al peso come Playful Dude e secondo me possono lottare per la piazza Ci sono tanti soggetti importanti in questa corsa, piazze alte? Sì, sicuramente i cavalli che spiccano sono alti come Wapo che all'ultimo vince Desert Ufai che non si può sottovalutare Sugar è rientrato e ha vinto, secondo me è un soggetto che se in ordine potrebbe dire la sua e Mister Endoni è un cavallo che all'ultimo non ha brillato però se guardiamo i trascorsi secondo me è uno dei favoriti della corsa Tra i pesini chi potrebbe sfruttare la perizia? Per i pesini metto Giuvamento che sta correndo benissimo Ma da Mento nelle ultime tre ne vince due, la cavalla sta bene, in ordine, è uscita benissimo dalla corsa sostanzialmente questa è un'indicota principale, è una categoria molto zardata per lei Corriamo perché è l'ultima giornata e proviamo a sfruttare per cercare una piazza Abbiamo 50 kg e ci proviamo Dovrete difendervi da chi? Wapo è un cavallo che sta correndo bene, ha vinto l'ultima condizionata, è un cavallo sempre piazzato e Berenson sono quelli che stanno lottando Sugar è rientrato molto bene vincendo la sua vendita Mister Endoni è un cavallo da grandissimi mezzi, è rientrato anche lui molto bene Poi ci sono i tre anni che Giuvamento è un cavallo che vince un sacco di criterium con questo peso ha sicuramente tante chance Poi ci sono i nuovi, i play for dude, i paghinaci una corsa aperta veramente a tanti cavalli, ma secondo me Guapo rimane il favorito Ma una corsa diciamo, una corsa difficile pure questa sono tutti cavalli buoni, una corsa aperta a tutti è il cavallo che mi piace, è il paghinaci, 53 kg e mezzo, un cavallo sta facendo vedere che è valido i pesini purtroppo si devono mettere in questa corsa Insieme a? Poi metterei Mister Endoni, un cavallino che sta correndo pure bene è Berenson Allora senti, come cavallo, come primo favorito è Sciucal che dall'ultima vittoria mi ha convinto moltissimo che categoricamente per me è molto superiore rispetto a questi Altro cavallo che può correre benissimo in lotta per il podio è Berenson Berenson che si è lasciato stare un po' davanti, può dire anche la sua E come terzo incomodo, Mister Endoni Andiamo con due sorprese però Con due sorprese, le due sorprese Madamento e Maitelli L'altro monte premi interessanti, 22 mila euro, è legato alla quinta corsa il premio criterium d'estate una condizionata che si sviluppa sui 1400 metri in pista piccola impegna i giovanissimi cavalli di due anni sempre difficile il pronostico ma forse basta affidarsi a chi ha già fatto bene qui a Siracusa Parliamo di Bellong U che ha i suoi due primi con delle vittorie veramente entusiasmanti che fanno pensare che questo cavallo abbia grosse potenzialità Legano i suoi nomi a Bellong, anche Gail Wartz, il numero 9 dello schieramento e il numero 10, Mister Guida che ha fatto una bella impressione subito al debutto è sempre al palo e positiva al Zisa per gli altri dovranno dimostrare forse una piazza potrebbe essere alla portata di Dreamer Filly e ancora Final Battle e Fiore Rosa provano invece Siracusa e sono le incognite Andiamo a sentire Antonino Cannella che ne presenta ben due Arab Gold che ha il debutto e Shining Rain ma ancora Erasmo Lopiparo e Macca e Mister Macca e il caporale di Scudia Carmine De Bernardo fuori campo Sì, sicuramente è una bellissima corsa, tanti partenti i cavalli che spiccano tanto sono quelli che si hanno visto come Mister Guida che è l'ultimo, se finisce secondo, che debuttava poi c'è Belong Yu che viene da due vittorie che secondo me è il favorito della corsa e poi gli altri alla fine secondo me stanno tutti per una piazza Come stanno i tuoi? Bene, uno debutta Arab Gold, un cavallo da buoni mezzi molto caratteriale ma da buoni mezzi e Shining Rain è un cavallo che è venuto avanti dopo il debutto, proviamo per correre bene Sì, in questa c'è questo di Sortino Belong che è un cavallo che ha fatto due uscite, due prime quindi è sicuramente il cavallo da battere adesso dà peso un po' a tutti però secondo me l'insidia maggiore di Siracusa viene messa il Guida che debutta e fa secondo e quindi potrebbe ora sfruttare che conoscendo il tracciato e comunque essendosi messo in corsa potrebbe ribaltare il pronostico gli altri sono tutti un po' più indietro a parte i nuovi che non dobbiamo vedere come saltano al terreno Quindi un po' di sorprese su questa corsa che ci aspetta? Sì, nei due anni ogni corsa dice la sua quindi non ci sono mai linee affermate però lui ha dimostrato di essere veramente un buon cavallo Sì, questi due anni sono cavallini che stanno venendo avanti però quelli sempre da mettere come cavalli abbastanza validi sono il cavallo che ha montato Zappulla Belungu, un cavallino abbastanza valido un cavallino che ha vinto due corse e ci sta Poi metterei al Zisa una cavallina pure che ci può stare e poi metterei Dremme il numero 6 Dremme l'Erfili Sorpresa? Come sorpresa Ara Bangold Senti, io come spettatore in questa corsa ho molta fiducia e sono tifoso del poledo della scuoteria Soltino Belungu che per me è un ottimo cavallo ha anche, secondo me, ampi immagini di miglioramento vuol dire anche la sua oltre la manica, secondo me Come altri due del podio suggerisco Gale Woods che è un cavallo in netto miglioramento e l'altro è Final Battle Apertura del convegno alle ore 20 e 15 il premio Arcobaleno è una bella condizionata 11.000 euro di Montepremi sono tutte corse interessanti quelle di contorno al galoppo di sabato 29 qui a Siracusa si affrontano i 1.400 metri con i cavalli di tre anni e oltre sono nove soggetti al via qui c'è Dorkel che va per la settima vittoria consecutiva che dovrebbe appunto far sua ancora le alternative Spuabere, Charminger l'hanno fatto bene sui 1.700 metri hanno forma Brickstar è una novità giovane che viene a Siracusa da Milano quello che ha militato in handicap principali buona forma e contesto impegnativo per Comet Gray dovrà impegnarsi Duke del Rose Ecuador è un'altra novità novità inglese è Cody Dream che ha fatto bene le sue ultime performance e poi c'è il Killashmi Fiuken che resta il cavallo più affidabile sui 1.400 metri e vale sicuramente questi quindi lo mettiamo come base di questa corsa insieme con Dorkel sentiamo Antonino Cannello lui presenta il numero 6,7 e 8 dello schieramento ma guarda i cavalli stanno tutti e due benissimo sicuramente sui 1.400 pista piccola Killashmi Fiuken si trova meglio di Expo Ribere perché lui gradisce qualche metro in più però alla fine stanno tutti e due in ordine e proviamo per vincere questa corsa quali sono gli avversari? sicuramente Dokel che è il cavallo da battere un cavallo che finora non ha perso mai a Siracusa e non sottovalutiamo Shalmingerle che è l'ultima vince la seconda corsa è il premio Aurora Boreale un handicap legato all'IPICA nazionale sul miglio in pista grande per cavalli di 3 anni e oltre sono ben 13 soggetti al via siciliano bello con yellow and green en blue amois kill lucky black hanno sicuramente un peso più importante ma hanno dimostrato di avere qualità sono questi i protagonisti insieme naturalmente a North Ireland che vale questa categoria ad una piero caratteriale che se corre va sempre per le vittorie e può mettere tutti d'accordo sta bene intenzionato sanno rubare piazze Zelur e Madame Secret potrebbero utilizzare il loro pesino gli altri dovranno impegnarsi sentiamo Erasmolo Pipero impegnato con Madame Secret e ancora Sebi Macca che invece è impegnato con intenzionato sì è una 3 anni sta correndo abbastanza bene quasi sempre al palo ha sbagliato soltanto l'indicap principale per una corsa molto affollata questa è una corsaccia sale di categoria l'ultimo forse con una 6.6 questa è una 8.8 però dove ci sono tanti cavalli a peso alto quindi sono cavalli addirittura 11.000 speriamo di sfruttare il pesino e che riusciamo a correre bene chi sono gli avversari? a occhio Siciliano Bello tra i Velo Green che sono i più carichi di peso sono i cavalli sicuramente Blumovic è l'ultimo a Piero mi sembra che nell'ultimo 4 ne vince 3 intenzionato ne ha vinto una simile da poco Killah Black ha 3 vittorie di fila penso che sono tutti molto probabili i cavalli per una piazza intenzionato ha un'ottima forma un cavallo che l'ultimo corso ha costato un pochettino male per il terreno speriamo domani sarà un po' morbido stanno dando un po' di acqua speriamo che vada tutto bene invece tra il campo partenti comunque ben frequentato? è una corsa un pochettino dura e difficile però come cavallo metterei Killah Black è un cavallino abbastanza valido in questa corsa con 58 kg poi metterei Madame Siegret 52,5 kg ci può stare tra i pesi alti nessuno? tra i pesi alti 65 kg sono sempre a 1.6 si fanno valorizzare perché sarà una corsa di andatura abbastanza veloce con Laguna Drive Laguna Drive 62 kg se tiene un po' di andatura ci può stare pure premio Carosello è la quarta corsa scatterale 22,05 è un handicap legato all'Ippica nazionale sui 1800 metri in pista sabbia con cavalli di tre anni sono ben 13 soggetti che frequentano il campo partenti nonno Alfonso il numero uno dello schieramento buone linee di riferimento all'ultima pesante deve adattarsi però al tracciato in sabbia piacciono Pulsanting Dragon reduce da vittoria una linea con Quicksilver che va benissimo Cool Grey che è positivo e sicuramente con 54 kg può sfruttare il pesino attenzione a Gregorian Silence bene all'ultima alla penultima Vince in linea con Reda Irish Joe che benché non sia regolare è sicuramente un valido alversario sul Dert dovremmo vedere anche Charming Filly e May Biu e dovranno dimostrare di adattarsi tanti palmier è di questa categoria e dice Antonino Cannella può far bene allora proviamo a sentire proprio mister Antonino Cannella Sì qua ci abbiamo tre soggetti secondo me il favorito è Pulsanting Dragon che all'ultima vince facilissimo secondo me sarà il favorito della corsa tanti palmier l'ultima finisce secondo sui 1200 metri però secondo me qualche metro in più ci può stare anche bene è un cavallo che gradisce tanto la sappia è ben messa al peso secondo me può lottare per una piazza i cavalli che mi piacciono sono Reddy Rich Joe che è una cavalla specialista della sabbia e Quicksilver un cavallo si è espresso benissimo a Siracusa secondo me può lottare per la corsa premio sole di mezzanotte legato all'ipica nazionale la sesta corsa partirà alle 23.15 6.600 euro di Montepremi per 2200 metri in pista sabbia da affrontare sono 13 soggetti al via common black è particolarmente regolare piace la linea dettata da Rock of Sprint Camden Sack specialista della sabbia e San George Cross che si è dimostrato valido avversario ma i men dovremmo vedere la forma macio e alterno ma ci sanno tutti come Peppe Island che reduce da vittoria in sabbia ruba piazza a Rock Royality sa come farlo e quindi potrebbe essere del gioco pure lui Sambucor Mixa Meraxen devono dimostrare di più prova Siracusa di Loal sentiamo Erasmolo Piparo lui impegnato con il numero 9 di San George Cross e poi Antonino Cannella impegnato con My Man e Macio sì il cavallo sta bene l'ultima corsa è sempre piazzato anche questo è una corsa molto difficile dove Common Black è un cavallo che frequenta le condizionate Rock of Spirit l'ultima la batte ma My Man e Macio sono gli ultimi cavalli Peppe Island vince l'ultima una corsa c'è anche questa ma essendo l'ultima giornata sono tutte cose affollate ben periziate e quindi è dura per tutti il protagonista di questa corsa principale? secondo me guardando i pesi My Man può tornare a essere il cavallo da battere sì i cavalli stanno tutti e due bene secondo me hanno tutte e due chance non si può escludere Camdenzac che all'ultima finisce secondo correndo benissimo e Peppe Island fresco di vittoria troppo pesanti i primi? secondo me il peso è un po' aggravato l'ultima corsa scatterà le 23.45 del premio Crepuscolo sul doppio chilometro in pista sabbia partono i cavalli di tre anni oltre e sono dieci al via la schermata impone il numero uno ad Ais Tupesc che ha più di una chance sicuramente si adatta allegro Ciumbalicca deve reagire alle ultime due negative è buon soggetto Double Jets Easy Ring rientrato non ancora alla sua altezza positivi Macho Guest e Stick Around Alterna ma c'è Teo Besli c'è un debutto quello del numero nove dello schieramento e Yasud che comunque è un soggetto più che positivo questi i protagonisti del premio Crepuscolo andiamo a sentire Carmine De Bernardo che debutta con il numero nove di Tout Love e ancora Antonino Cannella che presenta Teo Besli e Yasud il nostro debutante è un cavallo che abbiamo dovuto aspettare tanto perché è molto tardivo un cavallo che è cresciuto diciamo adesso negli ultimi periodi e debuttiamo per dirvela tutta uso un gergo ippico per dargli una sveglia per il duemila metri sono un filino lungo per lui come prima alternativa Asceto Pesca il vecchio che si comporta sempre bene anche se è stato avuto un periodo pago però penso che in questo contesto valga molto Teo Besli vinse bene l'ultima però è una cavalla molto alterna e se è ingiornata potrebbe anche vincere lei questa corsa l'altro cavallo Macio Quest anche se è gravato al peso ma è sempre un buon cavallo Sì Teo Besli finisce seconda l'ultima è specialista della sabbia in questa compagnia ci sta Macio Quest secondo me è uno dei favoriti della corsa anche se ha 63 e mezzo può vincerla questa corsa Acetupesco è un cavallo da grandi mezzi ha un bel po' che mi sembra che non corre però se è in ordine può lottare questa corsa Yasud affronta per la prima volta il tracciato in sabbia speriamo di far bene la sorpresa la sorpresa la metto dal numero 4 Double Jets non mi resta che ricordarvi l'appuntamento sabato pomeriggio si va al Galopoli padromo del Mediterraneo dalle ore 20 e 15 si resta fermi sul piste del Mediterraneo guardare lo spettacolo offerto dal premio Nastro d'Oro di Sicilia un handicap principale abbinato alla seconda Tris nazionale e ancora il premio Criterium d'estate con una condizionata che vedrà protagonisti cavalli di due anni arrivederci